Parliamo del Sagittario. Sì, il segno del Sagittario che vivrà una giornata problematica, un po' negativa perché sarete voi ad essere negativi nei confronti degli altri, pronti a criticare, pronti anche un po' ad aggredire. Insomma, dovete essere più disponibili. Cercate magari di perdonare anche qualche piccola critica che vi viene mossa. Non dovete essere sempre così permalosi. Molto bene invece i rapporti coniugali nel matrimonio. questa luna può portare una bella intesa. E andiamo al Capricornio.